Benvenuti alla nostra rubrica Leggere liberi. L'uomo è un animale sociale, si sa, ma allora mi chiedo perché Jean-Paul Sartre affermava che l'enfer c'est les autres, gli altri sono l'inferno. L'esempio tratto da Sartre è uno dei più illuminanti che Umberto Eco ci offre nel suo scritto Costruire il nemico, che dà il titolo a una raccolta di saggi pubblicata nel 2011. L'esempio viene dall'opera huis clos a porte chiuse. Da un lato possiamo riconoscere noi stessi solo in presenza di un altro e su questo si reggono le regole di convivenza e mansuetudine, ma più volentieri troviamo quest'altro insopportabile perché in qualche misura non è noi, cosicché riducendo l'annemico ci costruiamo il nostro inferno in terra. Quando Sartre chiude tre defunti che in vita non si conoscevano in una camera d'albergo uno di essi capisce la tremenda verità. Guardate che cosa semplice, insipida come una rapa, non c'è tortura fisica, va bene, eppure siamo all'inferno e nessun altro deve arrivare qui, nessuno, fino alla fine, noi tre soli, insieme, manca il boia, hanno realizzato una economia di personale, ecco tutto. Il boia è ciascuno di noi per gli altri due. Paradossalmente dunque affinché un gruppo, una comunità piccola o grande che sia, si strutturi, si consolidi e consolidi una propria identità è necessario che si costruisca un nemico da combattere. Ascoltate. Si veda cos'è accaduto agli Stati Uniti quando è scomparso l'impero del male e il grande nemico sovietico si è dissolto. Rischiavano il tracollo della loro identità sino a che Bin Laden, memore dei benefici ricevuti quando veniva aiutato contro l'Unione Sovietica, ha porto agli Stati Uniti la sua mano misericordiosa e ha fornito a Bush l'occasione di creare nuovi nemici, rinsaldando il sentimento di identità nazionale e il suo potere, l'integralismo islamico. Ma poi ci sono altri nemici, ci sono le donne, ci sono gli immigrati, ci sono i comunisti, ci sono gli ebrei, ci sono gli zingari che rubano i bambini e poi i comunisti se li mangiano. Quindi ci sono tanti nemici, tutti nemici che vengono costruiti attraverso un procedimento ben preciso, un processo di demonizzazione, di svalorizzazione del nemico, del quale si sminuisce l'importanza, del quale si tiene a sottolineare il fatto che è diverso da noi, è diverso e non condivide i nostri valori, non condivide i nostri punti di riferimento. Il nemico è persino l'alunno che non si allinea con gli altri, ricordate il malvagio Franti del libro Cuore, per meglio dire, di De Amicis, che viene esposto per sempre al pubblico disprezzo, perché non risponde, perché non condivide, perché non obbedisce alle regole. Ecco, la lettura di questo breve saggio è illuminante, perché tutti noi e soprattutto i nostri alunni possiamo finalmente capire un po' anche, come dire, lo strumento, gli strumenti, le strategie che usano un pochino anche i nostri politici, se vogliamo, per cavalcare ansie, paure, angosce, per in qualche caso purtroppo può anche generare odio. Bene, allora vi ringrazio, grazie dell'attenzione, ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando, veniteci sempre a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie. Grazie.